Sono molto orgoglioso e onorato che Cuno abbia pensato a me per un ragazzo che, ragazzo non è vero perché ha i capelli bianchi, però per uno che è stato ragazzo e che ha iniziato giocare a pallavolo in Piemonte, penso sia superfluo spiegare, tentare di spiegare che cosa questa cosa voglia dire. Spero di poter riempire il palazzetto e spero di poterlo riempire perché la nostra squadra riuscirà a trasmettere valori, passione, tenacia, attaccamento alla maglia soprattutto, questa qua sarà sicuramente la nostra vittoria più grande. Era quello che volevo io, sono stato contento che è anche quello che ha voluto la società molto contento della fiducia che Gabri, Davide e Paolo hanno riposto in me, quindi non vedo l'ora che sia il momento di iniziare. Noi ci metteremo al massimo, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, poi speriamo che arrivino i risultati e arrivino delle soddisfazioni anche da in pubblico. Sono molto soddisfatto di entrare a far parte di questo staff come preparatore atletico perché alla fine, dopo anni di preparatore in altre squadre, in altre società minori, questa è una buona, potrebbe essere un buon punto di partenza e ottimi stimoli per fare del genere. Grazie. 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 Grazie.